Il peccato ci allontana da Dio e interrompe il legame tra la terra e il cielo, ma con il battesimo di Gesù si inaugura la missione salvifica del Figlio di Dio che sempre ci ama. Lo ha sottolineato Papa Francesco prima della recita dell'Angelus. A tutti il Pontefice ha auspicato di sperimentare ogni giorno l'amore e l'infinita misericordia del Signore attraverso i sacramenti e con la prossimità ai propri fratelli, specialmente i poveri, i malati, i carcerati, i profughi. Alla vigilia del suo viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine Papa Bergoglio ha poi chiesto di essere accompagnato con la preghiera soprattutto rivolta allo Spirito Santo, troppo spesso dimenticato. Porre sotto l'azione dello Spirito Santo la nostra vita di cristiani e la missione che tutti abbiamo ricevuto in virtù del battesimo significa ritrovare coraggio apostolico necessario per superare facili accomodamenti mundani. Invece un cristiano o una comunità sordi alla voce dello Spirito Santo che spinghe a portare il Vangelo agli estremi confini della terra e della società diventano anche un cristiano e una comunità muti che non parlano e non evangelizzano.